moda.com pillole di sapere sulla pubblicità e la moda con Francesca Bonotto benvenuti al nostro primo appuntamento di moda.com un approfondimento sui temi della comunicazione della pubblicità e soprattutto della moda saranno piccole pillole di sapere e curiosità che ci porteranno insieme a conoscere questi ambiti più da vicino ma andiamo subito a conoscere il tema di oggi lo stilista Giorgio Armani Giorgio Armani nasce a Piacenza nel 1934 e nonostante i pronostici frequenta per qualche anno la facoltà di medicina si rende conto ben presto che quella non è la sua strada e inizia a lavorare nel mondo della moda prima come merchandiser per la rinascente e poi come buyer muove i suoi primi passi come stilista sotto la direzione di Nino Cerruti per poi diventare un vero e proprio freelance dei giorni nostri ma questo dura fino al 1975 anno in cui fonda la Giorgio Armani SPA possiamo definire Giorgio Armani come il padre del capo unisex infatti ricerca l'uniformità del taglio e del tessuto in tutte le sue creazioni sperimentando nuovi materiali per non perdere mai l'eleganza e la sorpresa Armani diventa sinonimo della donna androgina e dell'uomo dandy urbano viene definito dai molti come re Giorgio per la passione e il successo e inizia negli anni 80 a contaminare il cinema grazie alla collaborazione per i costumi di scena nel film American Gigolo che vede il noto protagonista Richard Keir oggi questo brand è ancora un caposaldo della moda italiana nel mondo uno degli ambasciatori del made in Italy l'aver proposto uno stile d'alta moda per il lifestyle quotidiano rende Armani uno dei brand più conosciuti e ricercati se vogliamo conoscere questo marchio ci basta in realtà avvicinarci ad una giacca la giacca destrutturata è infatti il simbolo del suo fare moda uno stile casual che tutti generalmente adottiamo e adoriamo per comunità e stile così facendo sottrae un capo come la giacca l'esclusività creativa dello stilista e ne permette la produzione in modo massivo come quella realizzata dall'industria della moda alla quale noi oggi siamo generalmente abituati Armani sarà uno dei primi anche ad applicare il suo brand nei capi da lui creati creando una vera e propria griff oltre a questo la scelta dei colori rende Armani un brand veramente delit per allinearsi alle tendenze della moda degli anni 30 propone infatti una gamma cromatica che delinea in toto la sua filosofia creativa andando dal grigio al beige e anzi unendoli creando l'iconico greige altri colori da lui utilizzati per le sue creazioni si trovano tutti racchiusi nello spot del profumo acqua di Joe tutti uniti e rigorosamente maschili nel sex appeal e femminili nella forma molto tono su tono senza accento ribelli osa solo nel nero e nel blu di cui questi colori godono sempre di un'ampia voce del resto l'eleganza non passa mai di moda oggi qui abbiamo delineato le caratteristiche di questo brand ma concludiamo questo nostro approfondimento con un consiglio per tutti gli appassionati se volete approfondire di più questa tematica o questo stilista e il modo di il suo modo di fare moda vi consiglio il libro Giorgio Armani il sesso radicale di giusy ferrè edito da marsilio editore moda.com con francesca bonotto Giorgio Armani il sesso radicale di giusy ferrè edito da marsilio